Dobbiamo essere pazienti, pronti per la partita lunga, è importante anche essere vivo, positivo sul campo fino alla fine della partita. Parla così Kamil Semenyuk, prima della gara fra Zaxa e Sir, siccome a Monini Perugia valida per l'andata della semifinale di Champions League, lo schiacciatore è cresciuto proprio nelle giovanili del club polacco, con cui ha vinto le ultime due edizioni della Champions League, risultando anche il miglior giocatore della manifestazione nel 2022. Normale dunque un po' di emozione. Sono molto contento perché non sono stato a casa da sei mesi, ma ovviamente sono arrivato qui non per visitare, ma per giocare palavolo e vincere. So che non sarà facile, ma faremo il nostro meglio. Intanto, ospite di Andrea Zorzi e Andrea Abrogioni, ad After Hours è stato il presidente Sirci per analizzare il momento vissuto dalla squadra. La regular season non conta niente. Quello che conta sono la post-season, quello che è diciamo i play-off. In questo contesto dobbiamo prenderla sul serio. La nostra squadra deve imparare a non sollezzarsi, a soffrire. Però forse quest'anno abbiamo sofferto poco perché la regular season, ragazzi, io vi dico, è un altro campionato. Adesso ci sono le spalle al muro. Io sono d'accordo con Anastasi che sta nelle nostre grazie e è un allenatore che secondo me è giusto. E quindi è giusto che venga fatto un turnover perché abbiamo preparato la squadra che fa da turnover. Quindi diciamo tutti i centrali, tutte le bande, tutti i liberi, tutti gli opposti vanno benissimo. Quindi è giusto che vengano fatti giocare. Quindi benedetto Anastasi. Però voglio dire questo, che anche il turnover crea dei sollazzi. Leon non può fare 200 partiti all'anno. Io sono sicuro che Leon, cioè non è che dobbiamo aspettare dopo 10 anni di carriera per dire questo qui, o dire non so, è scarso. Questo è un grande campione. Grazie.